Il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi in consiglio regionale uno studio sulle ricadute economiche e sociali degli abusi. Secondo i ricercatori in Piemonte c'è ancora molto da fare, soprattutto per quel che riguarda la prevenzione. Antonio Sgobba. 17 miliardi di euro ogni anno, il costo economico delle violenze sulle donne in Italia, il risultato di una ricerca della Ollus WeWood. Ma com'è possibile quantificare un danno che sembra incalcolabile? Quando si parla di costi economici e sociali si parla sia dei costi diretti e immediati che il sistema deve sostenere, quindi i costi sanitari, i costi relativi alle spese legali, giudiziarie, per le indagini, ma anche i costi per esempio per la mancata produttività. Una donna che è vittima di violenza avrà un assenteismo dal lavoro, piuttosto che il rendimento sarà inferiore qualitativamente e quantitativamente. L'unica risposta possibile è la prevenzione. Lo studio presentato nella sede del Consiglio regionale ha mostrato come per ogni euro investito in questo campo ci possa essere un ritorno di 9 euro. Ma a che punto è il Piemonte su questi programmi? Sulla prevenzione, ahimè, siamo ancora indietro nel Piemonte, ma a livello nazionale anche, perché nelle scuole si inizia a muovere dei primi timidi passi in relazione alla questione dell'educazione delle nuove generazioni. Le politiche di contrasto possono portare ricavi sociali pari a un miliardo di euro, mezzo miliardo risparmiato dallo Stato e mezzo miliardo di valore creato perché migliora la qualità della vita delle donne vittime di violenza.